Per me è stata una fortuna arrivare via Quarenghi perché mi ha trovato con amici e perché la gente qua è tanto tanto bravi per il lavoro. Mai ho avuto problemi con nessuno. Ci sono tanti extracomunitari, anche tanti italiani, però tante volte vengono a fare controlli. Prima c'erano tante persone che vendono droga, adesso i carabinieri sono presi, adesso c'è un po' un po' di casino, ma la gente non ferma qua, passano ad andare via. Noi tra virgolette possiamo essere razzisti, ma anche dall'altra parte c'è una forma di razzismo. Vuoi perché non ci conosciamo? Perché tante volte è una questione di non volerci conoscere. Però anche loro hanno proprio il loro mondo. Io sono una che non è che sono chiusa e non voglio, però se qualcuno non viene da me io non vado. Purtroppo sono così. Delinquenza magari a volte capita e questo fa sì che anche gli italiani si appartino un po', vedano un po' anche i negozi con un occhio un pochino più brutto magari, no? Poi c'è gente che vuole lavorare, non c'è gente che vuole far male a nessuno. Basta. Ecovara No, è l'ordinario. Poi dire, secondo mezzo è bellissimo. Che sono un po' 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 più Un po' 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 Grazie.